Ciao a tutti! Benvenuti a Cavaglia dice oggi apriremo i dondolamici! Apriremo i dondolamici, ciao a tutti! Allora, siamo ritornate in edicola e al prezzo di 4 euro abbiamo preso una nuova casetta dei 44 gatti, noi avevamo già preso la rivista dove abbiamo trovato Lampo e il loro camper poi nelle casette invece singole avevamo trovato Hop, Pilù e Jumpy adesso Lampo solo nella rivista ufficiale adesso apriremo il nuovo dondolamici e speriamo di non trovare una coppia allora, apriamola e vediamo scusa Lampo scusa Lampo, olè, è caduto tutto ma non fa niente, mettiamo tutto così Allora, le carte le mettiamo qui vediamo sono e poi da queste casette non si può vedere nulla perché non sono trasparenti Quindi non si può vedere niente, è proprio una sorpresa. Chi c'è? Il robot! Abbiamo trovato il robottino, vediamo come si chiama nel dal booklet. Vediamo, si chiama Aida. Wow! Apri, lo vediamo un po' come è fatto. Ah, che carino! Sì, è molto molto carino. Allora, anche qui abbiamo trovato il libricino con tutti i gattini che possiamo trovare. E qua c'è il disegno di lampo da colorare. E nell'ultima pagina il tagliandino per partecipare al concorso. Io volevo trovare Milady. Lei vuole sempre trovare Milady, ma alla fine non l'abbiamo mai trovata. E abbiamo trovato il robottino. Il robottino. Va bene, l'importante è che non abbiamo trovato una coppia. Se vi è piaciuto il video mettete un pollicione, tanti like e iscrivetevi al canale. Noi vi salutiamo, ci vediamo. Al prossimo video. Ciao, ciao! Se il video non è spaziuto, lasciate un like e ci vedete al canale. Ciao, ciao!